L'arcivescovo Thomas Collins è tra i 22 nuovi cardinali nominati dal Santo Padre. È una grande soddisfazione ricevere una chiamata dal Signore, ha esclamato a sua grazia Collins, quando apprese di essere stato elevato a cardinale. L'arcivescovo Collins, nato 64 anni fa a Guelph, Ontario, diventa il sedicesimo cardinale canadese della storia della Chiesa. Nelle immagini vediamo il neocardinale Collins con il vescovo di noto Sua Eccellenza Antonio Staglianò e padre Carlos Sierra Parroco di Santa Brigida in occasione della visita pastorale del vescovo a Toronto nell'agosto del 2011. La cerimonia dell'insediamento dei 22 nuovi cardinali avrà luogo il 18 febbraio in Vaticano. Questo sarà il quarto concistoro di Papa Benedetto XVI dalla sua elezione sei anni fa. Dopo il nuovo concistoro vi saranno 214 cardinali, tra i quali 125 sotto gli 80 anni.